E' arrivata l'ufficialità, Francesco Macri è il nuovo presidente di Estra, con quali obiettivi, quali ambizioni ha accettato questo incarico? Con grande senso di responsabilità, di orgoglio, è una cosa molto bella, è la carica più importante che esprime questo territorio, quindi con tanta serietà mi avvicino a questa realtà aziendale importante, senza dimenticare l'origine pubblica di questo gruppo, ricordo per chi non lo sapesse, Estra è il frutto della fusione di Coingas, di Consiag, di Prato e di Intesa di Siena, le tre vecchie aziende municipali del gas che si sono fuse hanno dato vita a un grande gruppo che ormai opera nel mercato anche in altri settori, nel settore dell'energia, delle telecomunicazioni, delle energie rinnovabili, quindi è una grande responsabilità e avrò una particolare sensibilità verso il mercato, ma non dimenticherò l'origine pubblica e le ragioni sociali di questa azienda. In troppe occasioni negli anni questo territorio ha ceduto porzioni di sovranità su acqua, rifiuti e altri settori strategici, non è questo il caso perché siamo in un settore più legato al mercato, però è una realtà importante con un'origine pubblica che va preservata e valorizzerò sicuramente il risvolto sociale di questa azienda e metterò in evidenza le potenzialità anche di un ritorno economico nel nostro territorio. Quindi l'obiettivo è riacquisire, se ce n'è bisogno, porzioni di sovranità e dare un senso di riscoperta anche sociale di questa azienda. Ecco, anche perché nei prossimi anni ci sono delle sfide che Estra dovrà cogliere. Sì, è programmata da tempo la quotazione in borsa, è una scelta importantissima sulla quale siamo chiamati a decidere, a riflettere, a decidere in pochissimo tempo. Ormai da due anni se ne parla, il Comune di Arezzo è un po' l'ultima frontiera, è l'ultimo comune che deve obiettivamente deliberare. Io nei prossimi giorni studierò in maniera intensa e condividerò anche con la nostra amministrazione di riferimento che è il Comune di Arezzo e gli altri soci, tutti i comuni, questa è importante partita. Tra l'altro la prima cosa che farò è andrò a conoscere, a incontrare i soci indiretti che sono appunto le amministrazioni comunali, a partire appunto dall'assemblea di Coengas per poi procedere con le altre province. Avega un aretino alla presidenza per questo territorio cosa può significare? Significa, se questo aretino, il sottoscritto, svolgerà bene questo ruolo, significa mantenere le redini o parte delle redini di un grande gruppo che è destinato sicuramente a crescere, considerate che è un gruppo nel settore energetico tra i primi nel centro Italia, nella top ten a livello italiano, quindi è un ruolo importante, strategico, in un settore strategico e ripeto è un gruppo che genera solo in Toscana 200 milioni di indotto come ritorno economico. C'è da lavorare per fare in modo che questo indotto si ripercuota positivamente sempre di più anche nella nostra provincia. Io non dimentico che rappresento sì tutta l'azienda ma anche il territorio che mi ha espresso. Ecco, Estra ha anche sostenuto diverse iniziative anche sociali, sportive, ecco su questo si continuerà su quanto è accaduto negli anni o cambierà qualcosa? Sì, Estra è un'azienda che ha un corposo budget che è destinato a iniziative di tipo sociale, sportivo e poi a esigenze promozionali perché vende dei servizi. Questo sicuramente cercherò di potenziarlo e se pensate che le amministrazioni di riferimento sono sempre più nelle ristrettezze economiche, questa azienda non può che continuare a stare vicino alle amministrazioni, alle iniziative sociali e sportive perché è nel proprio DNA. Certo bisogna coniugare questo tipo di investimento con le ragioni imprenditoriali, industriali e commerciali di questa azienda. Non sarebbe giusto dare d'azioni di tipo politico ma investire in progetti seri che diano dei contributi reali in cambio anche di una buona visibilità dell'azienda mi sembra il minimo proprio perché non si può dimenticare l'origine pubblica di questa azienda. Questa nomina è stata accompagnata da polemiche, come l'hai vissuta? Hai parlato di Poltronificio? Diverse forze politiche hanno contestato questa nomina? Per la verità, a parte qualche infelice uscita di singoli personaggi, devo dire che chi doveva decidere, cioè i sindaci, anche espressioni del centro-sinistra si sono astenuti quindi è stato un atteggiamento assolutamente di disponibilità e di apertura. Poi le uscite di singoli sono comprensibili però hanno il rilievo che hanno.